Benvenuti da ItalianCakes. Oggi vi proponiamo la ricetta del plum cake. In un contenitore mettiamo 150 grammi di burro, 200 grammi di zucchero a velo, e andiamo a frullare il tutto. Aggiungiamo 5 tuorli incorporandoli uno alla volta. Aggiungiamo una bustina di vaniglina, uno o due cucchiai di rum, e frulliamo il tutto. In un altro contenitore andiamo a montare 5 albumi con un pizzico di sale. Abbiamo preparato 300-400 grammi di frutta secca, a nostro piacimento. Lasciamo l'uvetta passa per un quarto d'ora in acqua, dopodichè scoliamo. Aggiungiamo della farina alla frutta secca e la mischiamo in questo modo. Aggiungendo un po' di farina faremo in modo che durante la cottura la frutta secca non andrà sul fondo del nostro impasto. Ora nel composto con i tuorli aggiungiamo 300 grammi di farina, la nostra frutta secca e una bustina di lievito per dolci che sarebbero 16 grammi. Andiamo ad aggiungere gli albumi montati a neve incorporandoli in due o tre riprese. Grazie. Versiamo l'impasto nella teglia. Nel nostro caso abbiamo utilizzato una teglia da 18 cm di diametro, imburrata e rivestita con carta da forno. Andiamo ad infornare a 170 gradi per circa 90 minuti. facciamo in modo da disporre il nostro impasto mettendo più impasto verso i bordi perché il centro crescerà leggermente di più e quindi per avere una superficie piatta mettiamo un pochino di impasto in più sui bordi. ed ecco il plum cake è pronto. Vi ringraziamo per l'attenzione vi chiediamo di cliccare sul pulsante mi piace ed iscrivervi al nostro canale YouTube ItalianCakes. Nuovi video ogni settimana. Arrivederci. Grazie. Grazie.